Ciao, mi chiamo Alessio, mi chiamo Edoardo, sono Emma, sono Gianmarco, sono Giulia, ciao sono Malilu, ciao sono Sofia, sono Valentina, sono Virginia, mi chiamo Federica, ciao mi chiamo Federica. Ho 29 anni e studio filosofia, sono anche un membro di Alter da diversi anni e dall'anno scorso partecipo alla redazione del TFF. Ho 18 anni e attualmente frequento il quarto anno dell'Istituto Albe Steiner. Sono una studentessa del quarto anno del Liceo Classico Gioberti. Ho 30 anni, lavoro per Alterac. Studio cinema e media. Ho 17 anni e frequento il quarto anno del Liceo Classico Cavour di Torino. Faccio parte dell'Associazione Alterac da molti anni. Studio storia dell'arte. Studio Gioberti, sono al quarto anno e sono qui come esperienza di alternanza scuola-lavoro. Ho 16 anni e frequento il Liceo Classico Cavour di Torino. Sto finendo il corso di laurea magistrale in musica e teatro fuori sede. Se dovessi descrivere la mia esperienza in tre parole direi insonnia, riflessione e condivisione. Se dovessi descrivere il TFF off con tre parole, una di queste sarebbe sicuramente interesse per l'appunto e poi ancora passione e esperienza. Per me il TFF off è divertimento, cultura e tanto ma tanto caffè. Per me il TFF off è condivisione, connessione e scoperta. Il TFF off in tre parole per me è stato casa, condivisione e caos in senso buono. Le parole con cui descriverei questa esperienza sono condivisione, concentrazione e confronto. Per me tre parole che rappresentano il progetto sono partecipazione, cultura e crescita personale. Se dovessi descrivere il TFF off con tre parole direi improvvisazione, dialogo, contatto con gli autori, forse un po' di stalking. Per me il TFF off è esperienza, occasione e dialogo. Per me il TFF off è sicuramente impegno, scoperta e confronto. Per me il TFF off è novità, scoperta e collaborazione. Per me il TFF off è sicuramente impegno.